Parliamo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche in base al sistema societario vigente negli Stati Uniti. Innanzitutto diciamo che è possibile distinguere diversi tipi di forme di società. La società di capitali di tipo C, la C Corporation, ovvero una società di capitali di tipo classico caratterizzata dal possesso di una personalità giuridica e di un patrimonio sociale perfettamente autonomi e distinti dai soci. Poi c'è la società di capitali di tipo S, la C Corporation, che da un punto di vista giuridico è identica a quella di tipo C però fiscalmente si caratterizza per la possibilità di optare, in presenza di determinati requisiti, per un regime fiscale trasparente per effetto del quale il reddito viene tassato una sola volta e direttamente in capo agli azionisti. I requisiti possono essere la residenza fiscale degli azionisti negli Stati Uniti, l'esistenza di una sola classe di azione e un numero massimo di azionisti. Poi c'è la limited ability company, una società di recente istituzione nella legislazione commerciale degli Stati Uniti che, oltre al beneficio della responsabilità limitata dei soci come le società di capitali, prevede la possibilità di applicare il regime di tassazione trasparente come quello che abbiamo detto per le società di persone. Poi c'è la general partnership che prevede la responsabilità limitata e solidale dei soci che rispondono con il proprio patrimonio per le obbligazioni che vengono assunte dalla società. Sotto il profilo fiscale, il reddito prodotto dalle partnership non è imputato a quest'ultima, ma viene attribuito ai singoli soci per mezzo del cosiddetto regime di tassazione trasparente. Poi c'è la limited partnership che è assimilabile alla nostra società in accomandita semplice perché in questa ci sono alcuni limited partner che beneficiano della limitata responsabilità patrimoniale in base all'importo della quota che hanno conferito. Sono soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le C-Corporation, ad eccezione dei soci, le associazioni, le compagnie di assicurazioni e le banche. Non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche, le C-Corporation delle partnership, delle S-Corporation e delle limite degli ability company, quali ora vengano tassate per trasparenza in capo ai soci. Le società statunitensi sono tassate sul proprio reddito cosiddetto worldwide, cioè senza avere riguardo all'obbligazione della fonte di reddito e senza che sia importante il luogo di esercizio della propria attività o dove sia situato il centro direzionale amministrativo delle attività. Il reddito viene quantificato sulla base delle scritture contabili che devono essere tenute regolarmente. Il metodo di contabilizzazione dei fatti amministrativi ordinariamente previsto è quello della competenza, l'acqua al method, a meno che il volume dei ricavi lordi nei tre esercizi precedenti non abbia superato il limite dei 7 milioni di dollari e in questo caso è ammesso il criterio di cassa. I dati ricavati dalla contabilità sono oggetto di successive rettifiche che permettono poi di determinare il taxable income. È possibile dedurre tutte le spese sostenute per lo svolgimento delle attività di imprese come le spese di natura ordinaria, quelle di le quote di ammortamento, gli interessi passivi, ovviamente con limitazioni, le imposte federali e locali sul reddito, i contributi ad enti caritatevoli e le perdite non coperte d'assicurazione. Le spese di ricerca, le spese di natura organizzativa, i costi delle start-up, le spese inerenti alle lavorazioni delle risorse naturali come petrolio, gas e minerali. Quindi ci sono tante possibilità di deduzione. L'imposta federale sul reddito delle società si configura come un'imposta progressiva e per scaglioni di reddito. Dal 2011 le aliquote di imposizione sono comprese tra il 15% e il 35%. Sono poi previste due aliquote aggiuntive pari al 38% e al 39% in corrispondenza di due scaglioni di reddito intermedi. Anche le società come le persone fisiche sono soggette all'alternative minimum tax che viene calcolata su una base imponibile più ampia rispetto alla tassazione ordinaria utilizzando un'unica aliquota di imposizione che è pari al 20%. La funzione di questa imposta è quella di garantire che tutte le società che presentano un reddito importante e significativo contribuiscano all'onere tributario federale pur avendo diritto a un certo numero di esenzioni, detrazioni e crediti di imposta. L'imposta alternativa è dovuta se l'ammontare la stessa supera l'imposta calcolata con il metodo di testazione ordinaria. Quest'imposta non si applica ovviamente alle piccole imprese cioè alle società che presentano un ammontare medio dei ricavi riferito agli ultimi tre anni inferiore a 7,5 milioni di dollari.